Allora, allora, parliamo, ritorniamo a parlare di Thor Love and Thunder, signore e signori. Allora, sappiamo che il film ha incassato bene, più di 700 milioni ed è un successo, però a livello di riscontro il pubblico si è un po' diviso. Addirittura c'è chi pensa che sia il peggior film del Marvel Cinematic Universe. Per via del suo tono un po' troppo eccessivo, caricaturale, tant'è vero che Taika Waititi all'improvviso è sparito dall'insieme di registi che venivano chiamati in causa per quanto riguarda questi progetti. In generale mi sembra che la sua carriera cinematografica si sia un po' ridimensionata, ma proprio parlando nello specifico dei cinecomic non se ne parla per l'eventuale Thor 5. Anzi, abbiamo anche scoperto che del personaggio di Thor non gliene fregava una minchia, l'ha detto in maniera molto chiara nel corso di un'intervista, ve la ricorderete, e vabbè. Ma Chris Hemsworth torna sulla questione, già in passato, dopo una fase di marketing in cui, no figata, abbiamo improvvisato, ci siamo divertiti. Già, ci aveva un po' ripensato, dicendo che se fossero tornati sul set per girare un quinto film avrebbero dovuto cambiare direzione. Adesso lo specifica ulteriormente, e anzi si dà la colpa di ciò che è successo. Dice, mi sono lasciato prendere la mano dall'improvvisazione e dal tono comico, assurdo, e sono diventato una parodia di me stesso. Non sono riuscito a dare il massimo, dice Hemsworth, che comunque ribadisce la prospettiva di un ulteriore quinto film, tra le altre cose, in cui cercherebbe di rimediare. Quindi, innanzitutto, non è da tutti, prendersi in modo così chiaro sulle spalle la responsabilità di un insuccesso di qualsiasi tipo questo sia. Non succede di frequente di vedere un attore, un regista che dice, sì sì, se quella cosa non vi è piaciuta è colpa mia. Quindi complimenti a Chris Hemsworth. Detto ciò fa anche bene a non responsabilizzare altri, quindi lui parla di se stesso. Ottimo. Diciamo che dall'esterno, io non credo che si sia svegliato una mattina e abbia detto, sì dai, adesso improvvisiamo, spingiamo il piede sull'acceleratore. Non credo. Credo che fosse una precisa direzione e scelta a monte. Anche perché il regista, se vede che fai quello che vuoi, dovrebbe anche fermarti. Tra l'altro c'è anche una sorta di coerenza interna perché ricordatevi che Thor Ragnarok era stato un successone. In particolare il pubblico statunitense era impazzito definendolo il miglior film di Thor, uno dei migliori film dell'MCU. Mamma mia. Sì. E quindi quando poi torni per fare il film successivo è evidente che tu cerchi ancora di più di esagerare, di riaffermare le cose che a quanto pare hanno funzionato. E nel caso di Ragnarok si puntava su una comicità abbastanza stravagante. Quindi Love and Thunder è Ragnarok ma elevato all'ennesima potenza. E ripeto, non credo fosse una libera scelta di Chris Hemsworth. Probabilmente è un insieme di cause che si sono andate ad unire regalandoci quello che abbiamo visto. Quindi tutti volevano esagerare. In passato Hemsworth ha detto che loro si sono divertiti tantissimo ma non si sono resi conto del fatto che forse gli altri non si sarebbero divertiti quanto loro. E credo sia successo proprio questo. Cioè loro probabilmente dicevano no, guarda che figata, che ridere, mettiamo il dio raviolo, mettiamo le capre, recitiamo così molto sopra le righe, buttiamo un po' la trama in vacca, tanto è Thor. O Etiti l'ha detto, ma sì Thor. Tanto è Thor, no? Questo film supereroistico. Ragnarok è andato molto bene, andiamo avanti. E poi si sono resi conto di avere un po' sbagliato. Fermo restando che probabilmente se la risposta del pubblico fosse stata similare a quella di Ragnarok, adesso non starebbero chiedendo scusa a nessuno evidentemente. Queste dichiarazioni arrivano perché il film non è piaciuto. Non prendiamoci in giro. se noi spettatori avessimo detto bravi, 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 a posto. Non ci sarebbe stata alcuna esagerazione allora, no? Credo di no. Ma come dici tu, è un insieme di cause concatenate. Quando hai detto tra l'altro Capre, ripensando a quella gag reiterata, ha avuto i flashback del Vietnam proprio, una roba agghiacciante sotto ogni punto di vista. E mi viene in mente, sempre per il discorso che hai fatto, ecco, è come quando noi magari ridiamo per una stupidaggine su WhatsApp fra noi, ma che a un, non lo so, ad uno spettatore esterno non farebbe mai ridere. Cioè, potrebbe capire l'ilarità insita in quella battuta, in quell'uscita, in quella notizia, in quello scambio, ma boh, cioè, sì, ok, però non vieni realmente direttamente coinvolto. E a me dispiace perché Chris Hemsworth ha sempre dimostrato, cioè, ecco, penso a come ti rovino le vacanze, no? Dove lui faceva questo, mi sembra fosse texano, personaggio schifosamente sopra le righe e con il membro enorme, ricordo, questa cosa, chiaramente posticcio, ma posticcio nel senso di avere una roba umanamente difficilmente trasportabile, ecco, diciamo una cosa, però faceva tutto molto ridere, è un personaggio super sopra le righe, e ok, ma ha dimostrato anche di poter fare film come quello Art of the Sea, no? Il film su Moby Dick, o Rush, ma anche, ecco, pensando a Netflix, tanto la saga di Tyler Rake sia, oddio, il film è quello che era uscito, dove lui faceva sostanzialmente il dottore, Spider-Ed, mi sembra sì, sì, mi sembra fosse Spider-Ed, è uscito un paio d'anni fa, insomma, e ha dimostrato, adesso, al di là della bontà dei film, possono essere piaciuti o meno, comunque, ha dimostrato di essere un attore abbastanza versatile, cioè, quindi, ok che lui dica mi hanno dato carta bianca, io ho improvvisato, me la sono giocata male, le cose sono andate male, mi dispiace, sì, ok, ma tu sei un attore, hai dimostrato di poter essere un buon attore, non un attore eccezionale, non un attore, ma comunque un buon attore, quindi la colpa, a prescindere da il tuo livello di improvvisazione, resta di chi il film l'ha diretto, anche di chi l'ha scritto, certo, ma in primis, perché l'ultima parola è sempre del regista, sì, ci sono le ingerenze produttive, quello che volete, ma ad alcuni registi, carta bianca, e lo abbiamo visto, basti vedere i toni dei film, la lasciano e come, con tutte le conseguenze del caso, e quindi il problema è sempre di chi il film lo dirige e in seconda battuta di chi lo scrive. L'attore è solo un attore, cioè, in realtà, per far uscire bene un film, cioè, se anche non ci fosse stato Chris Hemsworth, ci fosse stato il miglior attore possibile immaginabile, non è che ne sarebbe uscito migliore, cioè, il ruolo, cioè, il Thor che abbiamo visto, non è che sarebbe risultato meno sopra le righe, meno eccessivo, meno parodisti, no, no, perché comunque, a prescindere da tutto, il film era problematico al di là della performance attoriale di Chris Hemsworth, anzi, anzi, mi sento di dire che tra le tante cose che di quel film mi hanno infastidito, Thor, a un certo punto, sì, era terribile, ma era una roba che restava sullo sfondo, per le tante cose orribili che c'erano, ripeto, per l'ennesima capre, sì, una volta lo capisco, tra tante virgolette, una seconda volta ti dico, vabbè, ho capito, basta, alla terza mi hai rotto, no, tre quarti di, perché no, non fa più ridere, non faceva ridere nemmeno la prima, poi magari ci sono persone invece che si sono sganasciate e sono contento per loro, però il punto è che quel film era tutto sopra le righe, era tutto eccessivo, era tutto, forché problematico a causa del protagonista, anzi, ribadisco, ci troviamo, con tutti distingo del caso, in una situazione alla Dark Knight, cioè, del Batman di Nolan, in cui il villain, il Christian Bale di turno, ha fatto ciò che ha fatto Heath Ledger per quel film, cioè nel senso, Christian Bale si ruba la scena sempre, a prescindere, e quella è l'unica cosa sopportabile che io ricordi di quel film, stop, quindi non è, cioè, davvero io Thor, lo vedevo sullo sfondo, in mezzo a tutto il resto del casino, e soprattutto, ribadisco, non è pensando a Thor, cioè, non mi è mai nemmeno passato per l'anticamera del cervello, di formulare il pensiero, sai che se non fosse per l'interpretazione di Chris Hemsworth, di questo Thor, questo film sarebbe veramente bello, peccato per la sua pessima interpretazione, perché tutto il resto veramente funziona, veramente gran figo, no, cioè, è veramente l'ultimo dei problemi in interpretazione di Thor, è l'ultimo dei problemi di quel film, e tra i problemi, chiaramente c'è, per me c'è, sì, però è l'ultimo dei problemi. Sì, sono sostanzialmente d'accordo, in realtà anche lui recita in modo molto particolare, Love and Thunder, ma io all'epoca dissi che chi aveva consigliato a Chris Hemsworth di fare l'attore comico andava denunciato, perché non so, non so chi gliel'abbia consigliato di fare il gigione, io l'ho sempre trovato molto meglio come attore drammatico, molto. Sì, sì, assolutamente. Però ripeto, è una grande dimostrazione di professionalità quando gli viene chiesto di gettare luce sullo stile del film, quello di darsi la colpa, di non parlare di altri, cioè sarebbe molto facile dire è White E.T., è lo sceneggiatore, no, dice, anch'io ho contribuito andando molto di improvvisazione, di comicità un po' puerile. sotto questo punto di vista bisogna applaudirlo e questo ci fa già capire che se faranno davvero un Thor 5 cambieranno strada. E penso lo faranno francamente, io credo che ormai ne stiano parlando un po' troppo per essere un fuoco di paglia, poi sbaglierò. Speriamo, speriamo. Grazie a tutti.